Ciao a tutti ragazzi sono Abed Arago State TV, benvenuti in questo nuovo video. Avevo ragione ragazzi, abbiamo la possibilità adesso di donare gli incantesimi in clan, ma non gli incantesimi normali ma solamente gli incantesimi del nero, quindi quelle che possiamo creare con la fabbrica degli incantesimi oscuri. Ma si può dare ragazzi donare solamente un incantesimo nero per volta. Altra novità per questo sneak peek numero 5 ragazzi, ci sarà un nuovo menu per quanto riguarda la donazione di questi incantesimi nel clan che state vedendo qui nel video. Altra grandissima novità ragazzi, finalmente quando andremo a premere su dona ad un nostro member nel clan, apparirà ragazzi lo schermo del giocatore nella quale possiamo vedere le truppe che sono richieste, quindi ci saranno proprio le truppe che il giocatore insomma vuole che gli vengano donate. E questa ragazzi è una cosa veramente spettacolare, quindi possiamo vedere sia le truppe che vuole insomma che gli vengano donate, ma possiamo anche vedere le truppe che già gli sono state donate, insomma contiene il giocatore come truppe donate. L'incantesimo nero che ci verrà donato apparirà normalmente nella barra qui sotto assieme alle truppe e gli altri incantesimi normali. E per l'ultima cosa è esclusiva dal forum, per quanto riguarda invece il bottone avanti per andare avanti e cercare un villaggio, siccome a volte capita che per sbaglio premiamo poco fuori dal bottone avanti, a volte capita che appunto schieriamo ad esempio un barbro o un arciere e perdiamo la partita. La Supercell ha deciso di introdurre una sorta di safe zone attorno al bottone, così da non sbagliare quando premiamo avanti per cercare una partita. E per questo sneak peek numero 5 è tutto, noi ci vediamo domani con il sesto sneak peek. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!